Grande Napoli, un grande Napoli sicuramente, Mertens, Amsic, Amsic e Mertens sono stati i dominatori di questa serata. Un Napoli che però è andato spegnendosi nel corso della partita. Nel finale la Stella Rossa infatti ha trovato il gol della bandiera che poteva rischiare di rovinare i piani al Napoli e che comunque potrebbe, potrebbe aver creato qualche problema al Napoli. Perché in questo momento il Napoli pur essendo primo nel girone, clamorosamente questo è il girone più in bilico di tutti perché nessuno è ancora qualificato, neppure il Napoli che è primo appunto. E il Napoli però ha due risultati perché dovendo andare a giocare contro il Liverpool, avendo già vinto all'andata proprio contro il Liverpool ha due risultati perché basterà un pareggio evidentemente per qualificarsi. Con il pareggio però, nell'eventualità che il Paris Saint-Germain vada a vincere l'ultima gara, l'ultima partita contro la Stella Rossa il Napoli passerebbe da secondo. Probabilmente in tanti ci avrebbero messo la firma, in tanti ci avrebbero messo la firma all'inizio di questa Champions perché il girone del Napoli era stato battezzato da tutti come il più difficile. Insomma, vedi Paris Saint-Germain e Liverpool e pensi perché mai una di queste due squadre dovrebbe essere eliminata in favore del Napoli. E invece è quello che sta succedendo e paradossalmente chi va fuori potrebbe essere il Liverpool, squadra finalista di Champions. Veramente questa Champions è clamorosa perché poi ci sono dei gironi materasso, quelli con Schalke, Porto, Lokomotiv e lasciamo perdere e dei gironi clamorosi come questi qui dove veramente non riesci a concepire come possa andare fuori il Liverpool. Ma insomma vedremo perché non è ancora detta. Certo il Liverpool in questo momento si è inguaiata da sola perdendo nell'altra partita contro il Paris Saint-Germain però vediamo che cosa ha fatto il Napoli. Il Napoli ha fatto sicuramente un'ottima partita. Ha iniziato con un grandissimo ritmo però secondo me anche con la giusta calma, calma soprattutto mentale. Non ha mai preso ritmi frenetici, non si è mai fatto prendere il Napoli dalla frenesia di dover vincere a tutti i costi. Ha trovato il gol abbastanza presto con Amsic, molto presto anzi. Ha trovato il raddoppio attrettanto presto con Mertens e poi ha trovato anche il gol della tranquillità ancora con Mertens. Poi appunto una disattenzione, un calo di tensione che poi si è perpetrato anche dopo il 3-1 della Stella Rossa perché la Stella Rossa ha continuato anche un pochino ad attaccare dopo il 3-1. Hanno portato appunto a questo 3-1 perché poi dicevo però può essere un problema il gol subito perché è vero che il Napoli appunto ha anche il parigio ma dovesse perdere e dovesse essere effettivamente pari il discorso gol fatti e subiti negli scontri diretti con Liverpool interverrebbero il gol fatti e subiti quindi la differenza reti generale del girone e quindi aver vinto con più margine può, anzi vincere 3-0 avrebbe portato il Napoli a stare tranquillissimo. Con il 3-1 sta tranquillo ma non troppo. Comunque al Napoli praticamente il Napoli ha tutto nelle sue mani. è vero che deve andare a giocare ad Anfield e non sarà facile però può qualificarsi. Insomma sarebbe clamoroso assistiamo ad un Inter terza che potrebbe qualificarsi e ad un Napoli primo che potrebbe uscire. Veramente sarebbe clamoroso tutto ciò. Quindi come ha detto giustamente Ancelotti sono dei coglioni che se non si qualificano e a questo punto ancora di più sinceramente. Certo sarebbe stato meglio per il Napoli che dall'altra parte fosse finita diversamente però insomma il PSG ha avuto questo guizzo di non abbandonarsi a se stesso anche se io sinceramente avrei preferito un esito diverso e quindi il Napoli adesso nessuno è ancora qualificato dicevo. Una piccola notazione tattica volevo fare sul Napoli. Credo che sia notevole la velocità con cui Ancelotti è stato in grado di imprimere a questa squadra un cambio tattico importante dal 4-3-3 che il Napoli utilizzava con cui giocava da anni ad un 4-4-2 che funziona benissimo. Non era facile tra l'altro con il 4-4-2 secondo me il Napoli attacca meglio soprattutto giocano meglio Mertens e Insigne hanno più spazi hanno più possibilità di inserirsi di fare movimento e di attaccare. il Napoli attacca anche con più uomini meglio distribuiti perché fa salire gli esterni e può aggiungere anche eventualmente un centrocampista che si inserisce a differenza del 4-3-3 che era un po' più statico lì davanti ed era difficile poi far avanzare troppi uomini. La chiave è stata Fabian Ruiz, uno dei migliori acquisti del calciomercato estivo della Serie A voglio dirlo sinceramente perché nessuno gli avrebbe dato 50 centesimi probabilmente invece si sta rivelando un ottimo acquisto, sta facendo un'ottima stagione un rendimento sempre costantemente in positivo, ha fatto anche Assis se non sbaglio per il secondo cor di Mertens ma al di là di questo è proprio la chiave tattica per il cambio di modulo perché mentre a destra è facile, quasi naturale, abbassare Caglieon sulla linea di centrocampo a sinistra non potevi certo mettere Mertens o Insigne al centrocampo quindi per fare la linea 4 serviva un uomo in più e questo uomo in più è Fabian Ruiz che sta facendo un'ottima stagione. Dite se siete d'accordo con questa notazione tattica pronostici sull'esito di questo girone, se il Napoli si qualifica o no ci vediamo quindi nei commenti, a presto per nuovi video e sempre Forza Juve!